Video veloce post Cremonese Lecco, seguirà quello più approfondito. Molto freddo allo Zini. La Cremonese ha vinto 1-0, gol di Castagnetti. La vittoria della Cremonese è la quarta di fila. La Cremonese in questo momento in cui registro il video è terza in classifica. E questo è il primo dato che deve essere registrato. Vincere non è mai facile, anche quando sei favorito, incontri una promossa, una squadra che sicuramente è più debole sul piano tecnico, ma vincere non è mai facile. Questo lo dico sempre, quindi deve essere la base di partenza per analizzare questa vittoria. La Cremonese ha vinto. La vittoria è meritata, anche se dirò che Lecco, se alla fine fosse riuscito a pareggiare, tutto sommato per quello che è Lecco, che è una squadra comunque inferiore alla Cremonese, sul piano tecnico, ha fatto il massimo che poteva fare il Lecco. Poteva anche meritare, da un certo punto di vista, il pareggio. La Cremonese ha giocato benissimo i primi 20-25 minuti, in cui ha messo lì il Lecco, l'ha schiacciato, non permetteva all'Ecco di partire, non abbiamo mai corso rischi. Iungo della spettatura ha preso un freddone in primi 20 minuti. Abbiamo avuto tante occasioni. L'unica pecca di questa fase, non è la prima volta che accade, un solo gol, quello di Castagnetti. Diciamo che Coda stavolta è stato meno letale del solito. Coda ci ha abituato a che non sbaglia mai sotto porta, questa volta è stato un pochino meno letale. Dal ventesimo, al venticinquesimo, ci siamo un pochino incartati. Non abbiamo chiuso la partita, bisogna segnare sempre almeno il secondo prima di rilassarsi. Invece ci siamo rilassati forse un po' troppo presto. Abbiamo concesso l'occasione all'Ecco, più per demerito nostro. Una palla persa malamente da Pickel, il buon aiuto che tiene in gioco un giocatore dell'Ecco in una situazione in cui non bisognava farlo. Ci siamo salvati per una grandissima parata di Yundal. Finalmente l'abbiamo visto in azione, perché gli avversari non avevano ancora tirato quando gioca in porta. E si è presentato con una gran parata. Non facile per un portiere che fino a quel momento era stato spettatore. A freddo così non è veramente facile. Però insomma, qualche rischio di troppo. E nel secondo tempo la partita si è fatta sporca, bruttina. La Cremonese davanti non riusciva a incidere come primo tempo, ha avuto ancora qualche occasione importante, ma non riusciva a essere così inficcante come nei primi 20 minuti. Poi l'Ecco non ha avuto grandissime occasioni, ma episodicamente sì, soprattutto nel finale, quando aveva più niente da perdere, sulle palle inattive che sono una sua specialità, ha avuto un paio di occasioni grosse. Ancora bravo Yundal e soprattutto ha preso una traversa clamorosa proprio sul finire. Per questo motivo la Cremonese è più forte, si è visto, e la vittoria ci sta anche perché abbiamo avuto occasioni. Però se l'Ecco avesse pareggiato, io da un certo punto di vista non avrebbe neanche rubato nulla. Questo perché la Cremonese ha commesso l'errore di non chiudere la partita, un po' perché tendiamo sempre a sbagliare troppi gol, un po' perché mentalmente forse non siamo stati feroci come dovevamo esserlo. E poi può capitare anche la giornata storta di qualche giocatore. Coda non ha giocato proprio male, però non era il solito Coda, per fare un esempio, poi potremmo citare altri. Però diciamo, mentre con Spezia e Brescia hanno state partite splendenti, stavolta una Cremonese un po' più risicata. Questo non toglie che proprio riuscire a vincere, quando magari non giochi la partita perfetta, in un campionato in cui tutte le partite sono difficili, non esistono avversari facili, anche se l'Ecco ti è inferiore con la corsa, con l'organizzazione, con la grinta può sopperire. Riuscire a vincere è sempre difficile. La quarta di fila che vinciamo, la classifica adesso si è fatta degna del valore di questa squadra, e quindi a questo punto è comunque una giornata di sorrisi. Certo, Stroop deve ragionare su migliorare un po' di cose, ma pensare di vincere dominando come abbiamo fatto con Spezia e Brescia ogni partita sarebbe assurdo. Quali sono le prestazioni a 9 in pagella? Questa diciamo da 6,5. Comunque la cremonese ha vinto e va bene così. Ci sentiamo per il video più approfondito. Grazie a tutti.